Ragazzi oggi farò un video su Brawl Stars Poi mi direte voi che ho mini usare Che io non so proprio Non so proprio Che usare Non è che ho tantissimi mini Però Adesso vi faccio vedere un po' dei miei Mini Di coppe ne ho Cento No 1407 Scusate Oggi userò No Userò Nita E farò rapine Ve lo dico Ve lo dico In questo gioco faccio abbastanza schifo Tanti mi dicono così Abbiamo iniziato proprio male Sì ma come si fa Abbiamo Piper Tipo il Bombarolo E' perso Ve lo dico Salterò questa parte che tanto abbiamo già perso Come avevo detto Ho perso Allora vi dico una cosa Io Carletto l'ho trovato In una cassa blu Così senza neanche cercarlo Perché io manco lo volevo Poi Ma vi dico se l'abbiamo persa pure questo Ma questo abbiamo la possibilità di vincere Una Una soltanto Infatti si vede che ne abbiamo una sola È mamma mia Vai 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 Dai Ti prego Ti prego Bo 24 e 24 Io non so se si può finire così in pareggio Camper Aia Abbiamo vinto E so Apriremo una cassa Allora Mandatemi tutti quanti fortuna Anche se so già che fa schifo Ma secondo te Scrivete sotto nei commenti Che omino usare La prossima volta Non è che adesso ho finito il video Però Torneo Non lo so Tanto lui non è inutile Per tutti quelli che dicono che è forte Va bene Non è che sto dicendo Che in queste battaglie qui Vale proprio poco Perché non va Non parte Mamma mia Oh Telefono Parti Ma E vabbè Aspettiamo Oh Internet ce l'ho Non capisco perché Perché mi dice che non ho internet Non mi dice che non è inutile Ma ci prego Il mio amico cosa starà facendo adesso in partita Che la sa non posso Non posso far niente Senti salterò questa parte Allora adesso vi spiego Mi è andato via internet Non sta andando Non vanno neanche i giga Quindi Ottimo Faccio un gioco senza internet Allora Cambiamo gioco Allora Sto entrando in questo gioco Questo è senza internet Quindi se non parte rompo il telefono Lo speriamo Di trovare qualcosa di nuovo Incrociate le dita No Mia nonna mi ha mandato delle foto Come sempre Perché voi non sapete come è fatta mia nonna Mi dà sempre le foto Andiamo a vedere che foto è Questo è il video Che poi posterò su youtube No Soltanto una foto E il video Mi chiedo a fare i video E beh se vi chiedete come sono fatto Sono fatto così Ho incontrato anche altri youtuber Impastato Vedete Io sono molto famoso Questo è il video che poi E metterò su youtube No non è questo Perché è quello di un secondo Aspettate un attimo Nonna ma il video lungo che dovevi fare Quando è che lo fai Quando è che lo fai Monna ma il video che dovevi fare Quando è che lo fai Cioè il video che mi hai fatto Quando è che me lo dai Quello lungo dove Facevo tutte la roba Oh Perché non mi dai messaggi E vabbè Allora io lo dico dopo Ma da manca si può dare i messaggi Mentre si Oh nonna Perché non mi arriva niente Wow La cosa più divertente Allora guardate come si fa Così Allora Allora gli do questo Guardate eh Non voglio più essere un vecchio Oh cacchio Mamma mia si annoia Faccio due o tre partite E vabbè Oh Come al solito Allora voi adesso Ditemi chi usare Allora Goku Giamaso Beh non vi dico tutti i nomi Vi li faccio guardare Poi ditemi anche che video scaricare Cioè che giochi scaricare Almeno Un giorno Cioè Li scaricherò Però non troppi Che nel mio telefono C'è un virus E non posso scaricare Più di qualche video Adesso voi Non potete vedere Che il mio cane Mi sta leccando la faccia Una cosa molto sgradevole Ma dovevo guardare il video Per usare questo Ma ci vediamo dopo Che sono in battaglia Ovviamente Allora Chissà che cos'è Dragon Ball Capisce che Io sto facendo Una stupidata Perché ho messo Goku contro Goku Ultra estimo Chi lo conosce Chi non lo conosce Aspettate un attimo Faccio un piccolo spoiler Del video Che metterò su Youtube 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 Grazie. Potete capire il video che ho fatto. Capito? Potete capire. Poi farò un video in cui io farò una cavolata. Mi sono stordito le orecchie. E vabbè. Sono già morto. Sono morto tre ore fa. E vabbè dai. Non gli faccio niente. Dai ma cos'è? E vabbè volevi. E vabbè dai. Dai. Continua a stordire le orecchie. E vabbè. Questo video lo dovete guardare con le cuffie. E il volume al massimo. Ma non con le cuffie quelle grosse. Con le cuffie quelle piccole. Volete vedere come vi stordite le orecchie? E vabbè. E vabbè. E vabbè. E vabbè. Scusate se lo faccio. Mi sono stordito le orecchie. No non posso. Ne ho diciotto. Cosa dici? Continua un attimo. Ho abbassato il volume perché stavo morrendo. E vabbè. Siamo proprio uguali. Però io più forte. E vabbè. E vabbè. Scusate se stavo spammando le super mosse. Però è l'unica cosa che posso fare per colpirlo. E vabbè. Mi sono staccato. Ce l'avevo sotto carica. Il telefono. Ma do. No. Perché non si riattacca? Che dopo si spegne. E vabbè. E vabbè. E vabbè. E vabbè. E vabbè. Io manco l'ho toccato. Cioè alla fine quando lui è morto io manco l'ho toccato. Cosa sta succedendo? È pubblicita. Beh. Mi ripeto. Aspetta. No. Devo farvela vedere questa cosa allora eh. Troppo bello. Tranquillizza la mente. E invece non a me dà fastidio. Beh. Direi basta come video. Faccio girare la ruota un'ultima volta e poi basta. Dai. Ti prego. Ho incrociato le dita. Oh no. La posso farla girare ancora una volta. La giriamo. Perché possiamo farla girare e la giriamo. E no. Peccato. Finita male. Beh. Beh. A bella a tutti e ciao. Ciao.